bello a tutti ragazzi per venire in questo nuovo video oggi siamo tornati sul secondo episodio di mad max e cazzo davvero di dopo iniziamo a fare la missione 2 ragazzi come volete che ne dite se a inizio giugno quando uscirà l'operazione italiana parabellum vi farò una live quindi vi presenterò pure la pure la che cazzo si dice la pure operazione e i operatori credete rispondete al sondaggio che vi lascio qui a fine video e godetevi questo video qua allora cazzo devo fare binocolo cazzo si prende il binocolo allora vediamo un po segno di tomba esterna e giù c'è il grande bianco come è che doveva andare allora c'è quello è ah dov'è tenere? dai 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 iniziamo la stagione come si come and see your sight dream hallucinazione become truth the angel made steel by the fire that moves the piston by the tranny on all high by the cam and the u-john clissin vini car here she lies acta popis what the fuck here she is ha 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 you say no car it's just a mess of parts no 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 she's knowledge from the numinous hmm divinely inspired she wills herself upon this world huh look see here divining strife shaft and a symbiosis of faith bodied and made to measure and wasted with that old-time religion huh we got a classic whammy turbo high dog huh hell yeah bulletproof and torture tested it's technically upgraded with chumbuck overdrive coils springs shocks and links too it's gonna be aite zone there's nothing less yes we'll get there yes first we have to get her hopefully she'll buy show me where it is yes come no time like the prison come on c we must go no time like the police oh 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 ah oh ok oh cazzo ci stanno nemmeno porco zio mori no cazzo fa un culo la sua ingresiamo anche questo è vuoto ok aspetta ok ma non c'è te con il minimo ero cazzo faccio l'ho capito l'ho capito oh cazzo quando cazzo l'ho capito 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 o spettacolo spettacolo Occo zio, cosa cazzo? Oh, il corso di guida fuggente avanti Ma cosa sono queste cose? Occo zio Uno 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 da io voglio tagli allora scusate se non sto parlando ma mi chiedo concentrato oh capo dietro ok ok ci sono ci sono vai qui indietro vai gira dai 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 ci siamo vicini ma porco zio verso lì oh 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 allo venga Venga Devo Aggiungere quello Però con la macchina Non ho capito ma dovevo aggiungere con la macchina Ok Ora però devo capire Dovrei capire Eh Potrebbe io potrei sentire questo Ma usa Oddio la cacca che figata Inc Eccola Raccogli torcia Oh oh biografia torcia Oh cazzo che cazzo era quello Cazzo Ragazzi Raga mi stanno fa mettere paura Questa cosa Cazzo Cazzo No Prandolo Prandolo Un episodio Cazzo 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 Così Prandolo Cazzo Dai 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 cosa cazzo oh che cosa c'è da qui dai 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 il maggiore è possibile posso o no 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 na no 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 canti una donna raga maduna maduna santa orcosia ok gira ora chi non so che ci sono ragazzi forse quasi completata la missione si missione completata raga dopo vari tentativi ci sono riuscito porco zio porco zio ok ok ripara ok raga mentre questo nostro amico ripara l'auto io vi faccio un saluto e niente saluto al mio amico sisto si sono solo di conti non me lo sono scordato di salutarti quindi per la rosa te la ti scrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video di mad max bella vai io ciao ciao Grazie a tutti.